ciao ragazzi mamma mia che vento anche oggi è arrivato luglio è arrivata l'estate quindi è ora di un buon mini summer tour quest'oggi stiamo effettuando un sunset dj7 siamo per la precisione in un sito unesco un patrimonio dell'umanità siamo in toscana italia ovviamente ci troviamo in provincia di siena ci troviamo per la precisione dalle parti di asciano il comune che ospita le crete senesi eh si quest'oggi siamo nel cuore delle crete senesi provincia di siena ragazzi ma l'ho detto ragazzi oggi si era un po in pensiero buon viaggio ragazzi ovviamente sotto il video su youtube i link di questi magnifici posti io sono Matteo Bini DJ benvenuti a bordo e buon viaggio mi commuovo perché oggi c'è un paesaggio fantastico grete senesi siena grazie a tutti 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 mi ero grazie a tutti il pilota grazie a tutti 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 e salutiamo grazie a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti mi avete grazie a tutti e a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti a tutti e a tutti grazie a tutti e a tutti a tutti e 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 quindi e a tutti 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 ragazzi e a tutti 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 e quindi e quindi e a tutti 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 e tutti e tutti e tutti e a 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 tutti e quindi e a tutti e a tutti e a tutti